Ciao a tutti, sono Bellof del canale Bellof Film in Serie e siamo bentornati in questo nuovo video e oggi volevo parlare di Rogue One, lo spin-off più famoso e più di successo di tutto l'universo starwarsiano. Sì, perché nonostante le critiche piovute alla Disney su come stia trattando il franchise con i nuovi film e nonostante il massacro che è stato fatto dai fan duri e puri sulla trilogia sequel, oggi Rogue One è ancora considerato come un esperimento Disney-Lucasfilm ultra riuscito e che ha soddisfatto praticamente tutti. Io con voi qua volevo appunto analizzare ed esprimere la mia opinione su perché Rogue One abbia accontentato così tante persone. Però prima di cominciare vi ricordo di mettere like, pollicione su al video e di iscrivervi al canale col tastino iscriviti che c'è qua sotto sull'interfaccia YouTube. Ma partiamo dall'inizio, dalla storia. La storia di Rogue One è molto semplice. Abbiamo l'impero che sta costruendo la Morte Nera, che è una stazione spaziale capace di distruggere interi pianeti. Alla costruzione partecipa uno scienziato che è Galen Erso contro la sua volontà. Infatti lui deciderà di fregare l'impero e durante la progettazione introduce un punto debole che permette a chi ne è a conoscenza di far saltare per aria tutta quanta la stazione spaziale. Lui farà trappelare queste informazioni alla nascente ribellione e il gioco è fatto. Tutto il film è dunque incentrato sul gruppo di ribelli che riusciranno a recuperare questi piani e permetterà a Luke e soci di fare tutto quello che poi vedremo in episodio 4 Una Nuova Speranza e New Hope. Tornando ai ribelli la punta di diamante della squadra è una ragazza che si chiama Jean Erso interpretata da Felicity Jones che come si intuisce dal cognome è una parente di Galen Erso ed è sua figlia. Attraverso di lei e le sue avventure vedremo tutto lo svolgersi del film fino al drammatico finale a sorpresa. Sorpresa però fino a un certo punto perché sappiamo benissimo quello che succederà come andrà la storia a patto ovviamente di aver visto tutta quanta almeno il solo primo film della trilogia originale di Lucas. Questa in poche parole è la storia di Rogue One ma come mai è piaciuto e piace così tanto. Cosa lo differenzia dalle ultime produzioni che invece vengono continuamente massacrate e distrutte dal fandom? Beh secondo me la cosa principale che è l'elemento che domina tutta quanta la pellicola è uno solo è l'impero. Il caposaldo di Rogue One è il cattivo è l'impero è un cattivo vero, un cattivo limpido e sovrasta e circonda riempie tutto quanto il film. Infatti qua non abbiamo nessun dubbio con chi prendercela e questo è il principale successo sia della pellicola ma il principale successo di tutta quanta Guerra Stellaria ed è la vera genialata che ha avuto Lucas nel creare un cattivo così solido e strutturato perché il fulcro di tutto è sempre e solo l'impero. L'impero non ha sfaccettature, non ha ripensamenti, non ha cedimenti, è un cattivo semplice, un cattivo quasi elementare, non si pone mai domande, non si fa paranoie strane, non si fa storie, è quasi stupido possiamo dire perché è un cattivo stupido però è diffuso in tutto l'universo come una religione, è come se fosse bloccato, cristallizzato nel tempo, ha le sue gerarchie fatte bene, ha i suoi uomini devoti che quando muoiono, quando crepano non gliene frega niente a nessuno, anzi ci fanno solo che da ridere, infatti Lucas si è per i costumi, si è ispirato ai nazisti ovviamente. L'impero deve essere solo che sconfitto e tutto quello che si frappone all'impero non può essere altro che buono. Il segreto della trilogia classica non sono gli Jedi, non è la forza ma sono Darth Vader e l'imperatore, gira tutto quanto intorno a loro e quanto ci fa paura all'inizio quando vediamo Vader per la prima volta nell'episodio 4? Tantissimo, poi scopriamo quasi felici che ce n'è ancora uno più cattivo che è l'imperatore. Ecco, la chiave di Star Wars sta, non sta nei buoni, sta nei cattivi ed è per quello che la trilogia sequel secondo me non ha lo stesso appeal. Snoke vale poco, manca il vero cattivo e infatti perché è un successo paragonabile, secondo me JJ Abrams e company dovevano partire dal nemico, dal villain più solido, più strutturato, non da Ray e company e il Palpatine risuscitato si dà nostalgia ma non vale. Immagino che non è facile, che non sia facile però se il lato oscuro non è all'altezza il lato chiaro perde di credibilità. Però questa è un'altra storia tutto il discorso lato chiaro lato oscuro perché qua su Rogue One non abbiamo di questo problema e anzi il film ripeto è piaciuto proprio per quello. Altro punto di forza del film poi è la trama che si ricollega benissimo ad episodio 4 e quindi alza il livello di nostalgia di qualsiasi fan di Guerra Stellare, lo alza proprio a 3000 come direbbe Tony Stark. Questo film in pratica è l'estensione di l'unica frase presente in Una Nuova Speranza e quindi qua gli autori Disney's lookal film sono stati molto bravi a creare tutto da uno spunto, creare tutto da una frase, inserendo anche come La Morte Nera possa, poteva essere distrutta con un colpo solo di un solo caccia, ecco che tanti quella cosa là l'avevano criticata. E poi ho apprezzato che hanno voluto distaccare lo spin off dai film principali per il fatto che non hanno messo Jedi, non hanno messo spade laser, però nonostante ciò la filosofia di Guerra Stellare è stata rispettata, c'è solo il Monaco che ricorda che riporta un po' la forza ma niente di più. I personaggi nuovi introdotti sono piaciuti tutti, secondo me Jin, K2 e il Monaco cieco quelli che sono riusciti di più e anche il rapporto tra Felicity Jones, quindi Jin e Cassian Andor, che poteva risultare la classica storia d'amore un po' così melenza, alla fine c'è e non c'è e ognuno si fa l'opinione, hanno fatto bene a lasciarlo così tutto in sospeso. Terzo e ultimo punto finale sul successo di Rogue One secondo me è il finale bomba. A cominciare prima dalla battaglia su Scarif che è una delle migliori sequenze di guerra di tutto l'universo di Guerra Stellare, di Star Wars, dove vediamo questi gruppi di ribelli che attaccano un impero nettamente superiori, però sono credibili, che conquistano gli avamposti, che si sacrificano e che sono pronti a morire nella speranza di una vittoria futura, di quello che succederà dopo. Con il risultato che già conosciamo, che a vederlo messo in scena così è stato molto molto avvincente, anche a livello grafico bellissimo, è proprio guerra stellare. E poi alla fine di tutto, gli ultimi due minuti, ciliegina sulla torta, arriva Vader. La scena è la stessa dell'inizio di Una Nuova Speranza e non vi sto neanche qua a dire cosa è successo al cinema quando si è accesa la spada laser rossa di Vader, ha cominciato a far fuori tutti i ribelli, uno in filo all'altro, utilizzare la forza, c'è stato un boato in sala. Sembrava di stare allo stadio, tanto gasamento che c'era dal cinema. C'è poco da dire. Qua la Disney ha tirato fuori il carico da 90, che per carità sarà stata anche una furbata, una mossa furba, ma l'effetto nostalgia anche qua è stato centrato in pieno e hanno fatto bene a metterlo. A me è piaciuto tantissimo. Fra l'altro poi, avendo rivisto Rogue One da poco su Disney+, devo dire che funziona benissimo anche come film stand alone, perché solo il finale si ricollega all'episodio 4, però tutto il resto è godibilissimo senza aver visto un solo minuto di Guerre Stellari e anzi, essendo riuscito così bene, secondo me fa proprio da spot a tutta la saga. Cioè può innescare la scintilla della curiosità per chi si vuole approcciare alla galassia lontana lontana per la prima volta. Evviva Rogue One, rimaniamo speranzosi per le prossime produzioni della Disney. Io non sono mai pessimista, spero sempre che tirino fuori roba forte come questo film. A me, per dire, la trilogia sequel mi è piaciucchiata. Alcuni film sì, alcuni film no, però tutto sommato il finale, per dire di episodio 9, l'ho apprezzato molto. Detto questo vi ringrazio come al solito, vi saluto, vi abbraccio e ciao a tutti da Beluf. Ciao e che la forza sia con voi!